vice sindaco è un momento davvero delicato per l'acqua dopo un inverno di problemi gli stessi continuano il dissalatore non funziona come dovrebbe e voi vi trovate davvero in una posizione alquanto delicata perché siete qui a rivendicare nuovamente un sacrosanto diritto per la popolazione sì purtroppo devo dire in tutto questo percorso all'interno dell'amministrazione le difficoltà che ho trovato in questa delega io perché in quanto delegato anche del sindaco insieme al sindaco abbiamo fatto tante battaglie purtroppo questa è una situazione veramente incresciosa lo dico senza mezzi termini e sinceramente non ho intenzione di affrontare un'estate anche perché le previsioni ci dicono che sarà un'estate positiva come affluenza sul territorio non sono più disposto a accettare una situazione del genere io ne credo neanche questa amministrazione ecco lei l'anno scorso tra l'altro si è sostituito agli uffici pur di garantire l'acqua giorno e notte alla popolazione quest'anno immagino che non vorrà fare più dei sacrifici del genere perché insomma ne va anche dei rapporti a livello personale no che ha guardi mi consente la battuta per i miei cittadini darei tutto me stesso e lo do e do tutto me stesso non mi sono mai risparmiati in questo anche alle volte devo dire non dormendo neanche la notte per il senso di responsabilità per cercare di risolvere le problematiche però sinceramente questo è snervante perché io credo che un assessore si dovrebbe preoccupare di una di programmare investimenti sulle reti idriche di migliorare determinati servizi non credo che si deve preoccupare della fornitura dell'acqua questa dovrebbe essere una cosa che se ne dovrebbero occupare l'ufficio invece invece devo dire che grazie devo dire agli uffici perché l'ufficio idrico al di là delle problematiche di carenza di personale però devo dire delle persone eccezionali mi sono stati sempre vicino hanno combattuto insieme a me per questo oggi ieri ho fatto una riunione all'interno dell'ufficio stiamo cercando di programmare come uscire da questa situazione guardi vi preannuncio che ne parlerò col sindaco ora appena avrò l'opportunità entro stasera non è escluso che insieme al sindaco chiederemo una convocazione al prefetto di Messina perché si possa affrontare anche se il prefetto in questo momento sta lasciando ne arriverà un altro io parlo del prefetto con l'istituzione è chiaro non parlo della persona fisica però è un problema siccome l'anno scorso a seguito di una riunione che ci fu in prefettura lo stesso prefetto mi ha detto che di queste problematiche si devono affrontare nel tempo utile io proprio per scome già le premesse che si stanno verificando sono delle premesse che ci devono mettere in allerta e siccome proprio quello che è successo ieri il fermo del dissalatore questa notte ieri ho fatto una richiesta alla ditta di fornire 5.000 metri cubi d'acqua e mi è stato risposto che in questo momento sono in grado di fornire fino a 3.000 metri cubi d'acqua il dissalatore e noi abbiamo già la Pasqua e già le prime attività commerciali che aprono per la stagione turistica sinceramente una situazione va affrontata di petto non sono io né il sindaco perché siamo disposti ad accettare ecco vice sindaco ma l'anno scorso c'era il problema dell'acqua gialla questo dissalatore insomma non produceva per come deve produrre quest'anno non produce per come deve produrre per altre questioni ma la regione dico a questo punto cosa fa cioè l'assessorato all'energia che provvedimento intende prendere voi è chiaro vi siete cautelati chiedendo i quantitativi compensativi però è chiaro che così non si può andare avanti assolutamente ho confermato noi il mese scorso come lei sa perché l'abbiamo a livello regionale il mese scorso insieme al sindaco sono stato in assessorato a Palermo insieme al dirigente del settore con l'architetto filiale siamo stati lì e si erano stabilite delle prese di posizione da parte anche dell'assessorato regionale però gli effetti se sono questi sinceramente non va bene è una situazione che va affrontata in modo diverso con l'acqua e con alcuni servizi consentitemi sono vanno a incidere in modo brusco sui cittadini e spesso noi questo non deve essere una giustificazione né per me né per il sindaco né per i miei colleghi spesso siamo gli scudi di persone che hanno altre responsabilità perché sicuramente se non c'è l'acqua cosa dovrebbe fare l'assessore per fornire l'acqua al territorio rivendicare nelle sedi opportune di queste problematiche e due anni consentitemi l'anno scorso voi sapete il problema dell'acqua gialla cosa ho dovuto affrontare lei era presente quando mi sono arrivati tutti i cittadini eppure con grande forza con grande volontà insieme al sindaco siamo riusciti a superare quella problematica avendo accertato che a seguito dell'osmosi inversa tutte le situazioni tecniche che si erano verificate all'interno dell'installatore si era avuta la produzione questa abbiamo superato quel problema e poi se ne spuntano altri le membrane che non funzionano stanotte le cinghie che si rompono dico non si può andare avanti così sinceramente è snervante ripeto per un assessore che vorrebbe occuparsi di altro e sicuramente parlo di assessore ma parlo dell'amministrazione comunale nel servizio quindi dobbiamo aspettarci delle iniziative incisive nei confronti della regione io credo che a questo punto sicuramente ci vogliono delle iniziative forti perché non è il caso di proseguire così in questa situazione perché ripeto le premesse sono sicuramente non belle per la stagione turistica